Cecilia portava sempre nascosto nel seno il Vangelo di Cristo e non cessava mai i suoi colloqui divini e le sue preghiere né di giorno né di notte. Aveva Cecilia come fidanzato il giovane Valeriano, il quale ardendo d'amore per lei stabilì il giorno delle nozze. Ma il cuore di Cecilia era rivolto solamente a Cristo. E con le preghiere si raccomandava agli angeli. In lacrime invocava gli apostoli e tutti i santi che intercedessero presso Cristo affinché conservasse in lei quella pudicizia per cui tanto pregava. Giunse finalmente il giorno delle nozze e quando gli sposi, terminato il rito, si ritrovarono nell'intimità della loro stanza, così Cecilia parlò a Valeriano. E con le preghiere si raccomandava agli angeli. 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 A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.